A pochi mesi dal rompete le righe proseguono le grandi manovre dell'amministrazione Emiliano per riempire caselle rimaste ancora vuote in giunta. Due o tre i posti da coprire con deleghe che in maggioranza alcuni considerano perfettamente inutili. Cominciamo con il marketing territoriale, assessorato rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'ex arbitro Gianluca Paparesta, chiamato a miglior vita nella società calcistica Biancorossa nel ruolo di club manager e poi quello all'innovazione tecnologica. Nonostante le anticipazioni dei giorni scorsi che vedevano la presenza fra i papabili di qualche volto noto del giornalismo locale, in elenco ci sarebbero soli uomini. Il completamento della squadra di governo, che dovrà arrivare al traguardo delle amministrative ben compatta, dovrà essere uno strumento funzionale alla campagna elettorale, che da gennaio in poi entrerà nella sua fase più concitata. Emiliano si appresta a rendere noti i nomi dei nuovi componenti di giunta, distribuendo deleghe che nulla hanno a che fare con il bilancio, il patrimonio, la mobilità, la polizia municipale, il contenzioso e la viabilità. Ruoli che da buon accentratore ha preferito mantenere nelle proprie mani, avvalendosi della libera consulenza di due ex assessori, De Caro per la mobilità e Gallucci per il patrimonio. Sembrerebbe dunque che Emiliano si appresti a fare una semplice operazione di maquillage, che non sarà di alcuna utilità per una città come Bari, ma che servirà a consolidare nuovi patti elettorali. Non è un caso se una delle new entry sarà Antonio Vasile, figlio dell'imprenditore edile di Palese e sostenuto a sua volta dalla Federalberghi Bari, che in una lettera indirizzata al primo cittadino ha offerto la propria disponibilità a collaborare in tema di promozione e valorizzazione del territorio. Vasile è un imprenditore che potrebbe orientare i voti che in precedenza erano appannaggio dell'ex ministro Fitto. Entro fine mese è prevista un'altra nomina, quella di Fabio Di Fonte, esperto informatico facente parte degli Emiliano Boys, al quale dovrebbe essere affidata la delega all'innovazione tecnologica.